e salve ragazzi e ragazze come va? spero tutto bene e benvenuti in un nuovo video per chi non mi conoscesse io sono Loredana Berta e non mi spacco ma raga perché sono sempre così stupida? prima di cominciare con il video vi ricordo che qua trovate il mio profilo instagram e il mio profilo tiktok se avete voglia seguitemi altrimenti non c'è nessun tipo di problema assolutamente come avete letto dal titolo finalmente a grande richiesta arriva la hair care routine quindi la routine di come io curo i miei capelli come cerco di tenerli in uno stato decente ecco diciamo così cerco di curare al meglio i miei capelli ultra decolorati e pluridecolorati cercherò di essere quanto più come posso dire specifico possibile all'interno di questo video vi spiegherò quali sono i passaggi che io eseguo e il motivo per il quale li eseguo quindi oggi finalmente vi svelo tutti quelli che sono i miei tips and tricks e perdonate le condizioni del momento ma come potete ben capire devo lavare i capelli quindi non perdiamo altro tempo e andiamo nel mio giardino io sono Benedetta e oggi mi sono spostata qua in giardino come direbbe fatto in casa da Benedetta scherzando venite nel mio bagno eccoci qua ragazzi e ragazze come potete vedere siamo nel mio bagno ma che bel bagno come primo step come potete vedere vado in umidire i capelli sotto l'acqua corrente e tramite l'acqua fornisco idratazione ai miei capelli successivamente una volta tamponati i capelli e tolto quello che è l'eccesso d'acqua l'asciugamano che sto utilizzando nel video me l'ha inviato una ragazza che si chiama Naturangi esperta di capelli ricci e afro vi lascio in infobox il link dove potete acquistare questo suo asciugamano nel caso vogliate e la ringrazio ancora per avermelo inviato gratuitamente vado ad applicare una delle mie maschere preferite e questa è la maschera di Omia all'Argan è abbondo con il prodotto lo stendo sia sulla cute che sulle lunghezze e le punte perché vado a fare questo step? in quanto attraverso l'acqua vado a dare idratazione ai miei capelli successivamente sigillo l'idratazione all'interno utilizzando una maschera perché faccio questo passaggio? proprio perché i capelli porosi sono dei capelli che tendenzialmente tendono a non trattenere l'idratazione nei capelli ma tendono a perderla con molta facilità quindi facendo in questo modo blocco l'idratazione all'interno del capello lascio in posa per un'ora come vedete dal timer e ci rivediamo fra un'oretta ecco passata un'ora vado a risciacquare i miei capelli sotto l'acqua corrente e vado ad utilizzare un normalissimo shampoo in questo caso vado ad utilizzare il coco shampoo di Hello Body è uno shampoo che sto testando più di un mese ed è uno dei miei shampoo preferiti perché lava bene il cuoio capelluto però al contempo non lascia i capelli secchi e non porta via tutta l'idratazione e il nutrimento conseguiti con lo step precedente quindi vado a lavare per bene i miei capelli in modo tale che i capelli risultino puliti soprattutto a livello della cute dove si addensa maggiormente il grasso e il sebo e poi vado a risciacquare anche questo sotto l'acqua corrente preferibilmente fredda successivamente una volta sciacquato lo shampoo vado a tamponare i miei capelli con un asciugamano in cotone o in microfibra tendono a non spezzare i capelli in quanto più delicati e tampono delicatamente i miei capelli proprio per evitare che questi si possano spezzare perché come potete ben capire i capelli decolorati sono dei capelli molto molto fragili dei capelli che tendono a spezzarsi molto facilmente e questo lo consiglio anche alle persone aventi i capelli ricci di utilizzare sempre un asciugamano in microfibra o una t-shirt in cotone proprio per evitare che il riccio diventi crespo successivamente una volta tamponati per bene i capelli vado ad utilizzare un olio pre-styling uno tra i miei oli preferiti in assoluto è un olio siliconico ed è il lux oil di vella è un olio professionale ed è uno tra i miei oli preferiti proprio perché ha una buona profumazione tende a non ungere i capelli ma ha un effetto districante e lucidante sul capello proprio anche forse per via la sua componente siliconica che per me non è assolutamente un valore negativo successivamente come potete vedere procedo all'asciugatura dei capelli con il phon ad aria tiepida e lo tengo anche a una bella distanza proprio perché non vogliamo seccare i capelli eccessivamente con un calore troppo alto successivamente se vedo che è necessario utilizzo una spazzola tonda come una spazzola per esempio Thermix e vado a lavorare alcune delle mie attaccature in modo tale che i capelli e la piega risulti quanto più definita e perfetta possibile sempre per quelli che sono i miei standard e questi sono appunto i capelli solamente asciugati con il phon e con la spazzola tonda giusto per dare un pochino di definizione un pochino di movimento ora successivamente vado a piastrare i miei capelli con la GHD Gold la versione standard e vado a sezionare i miei capelli con un elastico solitamente utilizzo dei becchi d'oca però in questo caso ho utilizzato un elastico una cosa che mi chiederete sicuramente è Nico perché non utilizzi un pettine quando passi la piastra per il semplice fatto che i capelli molto corti e non trovo la necessità di utilizzare un pettine se dovessi realizzare la piega su un'altra persona lo userei sicuramente e questi raga sono i capelli post piastra e questo è il risultato finale fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate e niente raga questi sono i capelli terminati certo c'è sicuramente da dire una cosa che i capelli decolorati non potranno essere mai paragonati e dei capelli completamente naturali dei capelli che non hanno mai subito nessun tipo di trattamento chimico però questi step almeno nel mio caso perché dobbiamo ricordare che questo è il mio metodo non è detto che funzioni su tutti è il metodo che io utilizzo per mantenerli quanto più sani possibili e come potete vedere non sono ridotti ecco malissimo proprio perché decolorandoli io stesso e mettendoci tanta attenzione e cura devo dire che ottengo dei risultati abbastanza positivi passando a delle domande che sicuramente mi farete nei commenti così vi rispondo direttamente qua in un video una delle domande sicuramente che mi farete Nico ma perché fare la maschera prima dello shampoo? non pensi che lo shampoo vanifichi l'effetto? assolutamente no la maschera funziona insieme poi vabbè con l'acqua eccetera funziona nel momento in cui voi l'avete in testa la maschera poi successivamente andrete a sciacquarla anche quando voi la fate dopo lo shampoo è un trattamento che andate a risciacquare con l'acqua andate a eliminare quindi la maschera come posso dire ha la sua azione ristrutturante la sua azione idratante eccetera nel momento in cui è sui capelli è per questo che io dico di lasciarla tantissimo in posa in questo caso io l'ho lasciata un'ora ma la posso lasciare anche due ore, quattro ore mi è capitato anche di lasciarla otto ore mentre che facevo le pulizie a casa un'altra domanda che sicuramente mi farete è il fatto di fare la maschera prima dello shampoo trovi che posso andare bene su tutti? assolutamente no non trovo che possa andare bene su tutti i tipi di capello non trovo che tutte le maschere siano adatte a questo tipo di trattamento motivo per il quale cerco di sperimentare sempre di più con i prodotti da supermercato oppure il test dei prodotti di Hello Body tutti i video che io ho realizzato di cui ho creato le playlist che vi lascio sempre qua in alto come potete vedere dalla recensione di Hello Body nel caso non l'aveste vista la potete recuperare lì la maschera per esempio non mi ha entusiasmato prima dello shampoo la preferisco dopo lo shampoo un'altra cosa che sicuramente mi chiederete Nico ma io magari ho i capelli molto lunghi dopo ho fatta la maschera prima dello shampoo ho lavato i capelli i capelli sono annodati come li districo? a questo punto potete o applicare una noce di maschera nuovamente per districarli o altrimenti semplicemente come avete visto nonostante anche i miei fossero leggermente annodati quello che sono andato a fare è utilizzare un olio pre styling proprio per aiutarmi a districare i capelli anche perché i miei sono abbastanza corti il metodo della maschera prima dello shampoo è un metodo molto particolare è un metodo che io consiglio a tutte quelle persone che hanno i capelli grassi è un metodo che consiglio a tutte quelle persone che hanno i capelli corti come i miei e che quindi tendono anche a sporcarsi facilmente di tutti quei capelli che necessitano di trattamenti nutrienti, ristrutturanti, idratanti ma che comunque ho un capello corto se io andassi a metterli dopo mi ungerebbe tantissimo i capelli quando fate la vostra hair care routine mi raccomando che se avete delle ciocche delle schieriture che sono alte fino alla base e avete i capelli completamente decolorati mi raccomando la maschera mettetela anche lì tanto poi successivamente andando a fare lo shampoo si eliminano i residui unti dalla cute e quindi non ci sarà nessun tipo di problema tante volte le persone mi chiedono su Instagram io ho la cute grassi e le lunghezze secche come faccio? proprio facendo in questo modo andiamo a mettere la maschera prima sui capelli poi successivamente procedi con lo shampoo il tuo preferito uno shampoo adatto alla tua tipologia di capello vi ricordo che lo shampoo va fatto solamente sulla cute e non si lavano mai le lunghezze e le punte perché lo shampoo contenendo dei tensi attivi all'interno una volta sciacquata la schiuma e finendo su lunghezze e punte andrà automaticamente a pulire anche quelle dallo sporco non c'è bisogno di accanirsi su lunghezze e punte massaggiando così lo shampoo ok raga io spero come al solito di avervi detto tutto che questo video vi possa essere stato utile in qualche modo io lo spero molto volentieri e niente raga ci vediamo al prossimo video ciao ciao